Le bambine e i bambini senza una famiglia hanno grandi sogni, amano il gioco e non vogliono vivere la solitudine. La nostra regione è terra di donne e uomini coraggiosi, persone generose che amano dare e sanno ricevere. Adozione e affido, percorsi e sfide per chi non si rassegna alle ingiustizie, per chi sa cosa vuol dire futuro e vuole essere il presente. Le bambine e i bambini sereni oggi saranno domani donne e uomini positivi. Aiutiamoli a realizzare le loro aspettative. Vogliono diventare grandi insieme a chi gli vuole bene. Non è facile, ma sicuramente possibile. Facciamolo diventare reale. Per maggiori informazioni www.regione.abruzzo.it slash sociale